Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Per traffico intenso sulla A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il Bibio per la 1 in direzione Firenze. Sulla FIPILI in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siana Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta e tra Monteriggioni e Badesse. A Firenze in Viale Etruria per rifacimento della pavimentazione restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!